22 anni fa l'attentato alle Torri Gemelli a New York. Nel giorno del triste anniversario ieri 11 settembre i vigili del fuoco e le massime autorità civili e militari di Padova si sono ritrovate presso il monumento Memorie e Luce in città, unico monumento in Europa eretto con una delle travi del World Trade Center per deporre una corona di fiori in memoria delle vittime tra cui 343 colleghi. Presenti alla cerimonia il direttore interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige, l'ingegner Loris Munaro, il comandante dei vigili del fuoco di Padova, ingegner Giuseppe Lomoro, il personale delle associazioni nazionali in congedo e del distaccamento dei volontari di Borgo Ricco, a rappresentare le comunità militari di Vicenza, il comandante della guarnizione USA Army, il comandante italiano delle basi, la direttrice del Dipartimento Servizi di Emergenza e il capo dei vigili del fuoco della caserma Ederle. A conclusione della cerimonia il discorso del Console Generale degli Stati Uniti d'America presso il Consolato Generale Robert Niedmann.